buonasera amici buonasera a tutti siamo venuti a trovare gli amici e frati luca e compare ciccio che sta lanciando adesso siamo senza canne non ero pronto per una battuta di pesca e stiamo stanno stanno i ragazzi provando per prendere qualcosa lo sappiamo qua luca allora abbiamo uno sciotto rovesciato con il nesco di seppiolina luca ha tre canne già piazzate la prima destra con l'americano e la seconda che c'hai luca sembra un'altra seppa filetti di seppio ok e qua ci mettiamo lo scoppola ricca come dice luca andiamo da cicciuzzo cosa abbiamo ciccio Francesco ha montato due cani salutiamo gli amici di youtube cicciuzzo ok e stiamo provando va bene ragazzi vi aggiorniamo e vi faremo sapere una buona serata a tutti